Toh, concimo, toh, mangia, bevi, volevi nanotec? Toh, biodoped? Toh, 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 oh, oh, finalmente, questo è per farvi capire come concimo, ok? Allora, andiamo a vedere, ehi, con calma, andiamo a vedere i risultati del mio acero tridente, dove sono le forbici, non lo so, devo fare una potatura, boh, tronchese, mi sembra di essere una tronchese, comunque, ben ritrovati i miei discepoli, andiamo, faccio vedere un po' come stanno i miei bonsai. Ok, a questo è un acero tridente, ah, prima di iniziare, vado a prendere le forbici, dai, che già mi girano i coglioni. Allora, come avete visto, non si bada a spese, per quanto riguarda il nutrimento dei bonsai, quindi per quelli che mi stanno chiedendo cosa acquistare, cosa fare, c'è tutto sul mio sito, mi scrivete, vi dico cosa comprare, e poi comprate, ok? Non fatemi 200 domande, cosa c'è dentro, cosa non c'è, c'è tutto scritto sulle confezioni, soprattutto, andiamo a vedere i risultati, dai, così evitate di rompermi il cazzo. Sta bene sta pianta, secondo voi? Eh, il vostro maestro contadino, eh, di 900 anni, che sta lì così, lo vedete che si scaccola, eh, che sputa, che mangia e sputa, così, eh? Vi ho detto che non si può concimare con i miei prodotti che fanno male, questo è il risultato di quello che vedete, questo è un acerotridente, faccio una bella potatura, ve la faccio rivedere di nuovo, se no alcuni diranno, no, però, sto a pianta, bonsai, un pallone. Pallone, pallone, poi dietro c'è la porta, c'è il dischetto del rigore, c'è tutto qui, ok? Così vi faccio vedere tutto e non mi rompete il cazzo. Comunque, cosa faccio adesso? Porto tutto sto cazzo di roba che mi ha fatto, perché? Che la pianta sta bene e vegeta come una bomba e non si ferma più, ok? Molto semplice il discorso. Eh, una cosa fondamentale, ho fatto un videocorso anche questo mese, ok? Così, ve lo guardate, è gratis, evitate almeno di intasarmi i coglioni su WhatsApp, perché se no io, ragazzi, non so più come fare, tutti i giorni a stessa pugnetta. Ma però, però, sì, però, sì, no, però, c'è sempre un però. Mi chiedete una cosa, io vi rispondo, ah, ho capito, però se invece faccio, no, non è così che funziona. Io sono il vostro medico, vi prescrivo quello che dovete comprare, vi prescrivo come usarlo, vi dico cosa dovete fare per avere dei risultati, dal di lì non ci si muove più, ok? Non c'è il vostro maestro secondario, il vostro pro nipote, pro zio, genero, non so chi sia. Quello che vi dico io vi serve per tirar fuori qualcosa a fine anno, perché tanto, ma la madonna il cazzo di ramo, perché non ho capito un cazzo. Sta arrivando l'estate, eh? Si vede? Si vede che va una bomba a queste piante, oppure no? Discorso molto semplice, noi dobbiamo lavorare bonsai, dobbiamo tirare fuori qualcosa. Se la pianta fa quattro rami, durante la stagione, non possiamo fare niente. Se invece inizia a buttare fuori, così di continuo, vuotatura, ci si diverte, si fa, si smana, si bestemmia, ok? Si mostrano i risultati, soprattutto ai metrosessuali, che cerca tutte le volte di dire No, ma anche io sono un maestro, anche io, quello dice le parolacce, quello fa bonsai bene, però dice le parolacce. Mia mamma ha detto che non devo ascoltarla. No, è ovvio, io non sono un bel esempio da seguire, ok? Però so fare bonsai, eh? Non è politicamente corretto, politicamente scorretto, ma che cazzo me ne frega a me? Ma che cazzo vuol dire ste frate? Ma chi se ne fotte? Cioè, è il numero uno, purtroppo è così, col numero uno funziona così, la dura legge del numero uno, ok? Ok? Ovvero, io so fare bonsai, voi non lo sapete fare, è inutile, avete gli attestati, avete i diplomi, avete fatto la scuola, la scuola d'ocuto, avete, boh, il vostro maestro vi ha dato l'attestato, e va bene, non avete le piante, ah, non sapete fare un cazzo, punto, fine, ok? Discorsi seri adesso. Ecco, ho messo in vendita il mio leccio, quello che avete visto nel video precedente, ho ricevuto qualche offerta, qualcosa, ragazzi, è molto semplice, io quando mi gira bene, qualche pianta ve la rigiro a voi, cioè ve la do, ok? Però se non me la pagate, vi attaccate al cazzo, è molto semplice, no, ma io volevo, però la voglio più grossa, la voglio più larga, la voglio più, che vado più in giù, no, quel ramo secondo me però sta meglio lì, no, non è così che funziona, ok? Anche perché quello che pensate voi non corrisponde al bonsai, ok? Alla fine, se io faccio le piante come voi me lo dite, come lo dite voi, viene fuori una merda, cioè non viene fuori un bonsai alla fine, ok? Se coltivo, come dice la gente, non viene fuori un bonsai a fine anno, ok? Tra l'altro, poi finisco con le polemiche, però è anche molto divertente, il testatori a trino piace più a me che a voi. Comunque, il discorso è questo, io lo so che c'è gente che fa bonsai da più tempo di me, che sanno fare, sono bravi, insegnano, ma come mai loro non lo fanno di mestiere? Cioè, come mai allora lo fanno solo la domenica? Come mai lavorano per altri? Cioè, vanno idraulici, bianchini, va bene? Tanto di rispetto, chi lavora è un professionista, cioè chi lavora uno fa lo spazzino, mio abbo era spazzino, ok? Ci sta, ognuno fa il suo, ok? Ah, scusa, ma se uno è più bravo di me, io lo faccio con partita IVA, è il mio lavoro, faccio solo questo da sei anni, faccio solo questo, ok? Ma se uno è più bravo di me, perché non lavora al posto mio a sto punto? Perché non capisco sta cosa? Perché qui sono tutti maestri, però poi che lavoro fai per vivere? Ah, ma io, ah, ma io, eh, 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 allora c'è qualcosa che non va, ok ragazzi? molto semplice se dovete andare dal medico il medico fa il medico dovete andare da un chirurgo cioè voi andreste da un chirurgo a operarvi alla mano al gomito da un chirurgo che lo fa la domenica quando capita quando ha dei buchi sul dentista porca troia ma voi fate davvero cosa cioè io se devo andare da un dentista vado da uno che fa il dentista cioè che è un dentista quindi fa quello per vivere perché se no non mi faccio mettere le mani in bocca da uno che non capisce un cazzo oppure che lo fa la domenica poi dici, vuoi risparmiare non so che cazzo i denti vengono fuori però vedete voi stesso discorso col bonsai però col bonsai ancora questa cosa del lavoro non è ancora ben capita perché in Italia non c'è questa cultura se andate in Giappone secondo me ogni 3x2 c'è un vivaio c'è qualcosa allora lì è un lavoro riconosciuto qua invece sembra che no ma io in realtà no ma io però c'è sempre una scusa posso dire una cosa ragazzi io mi sono dato il cazzo io mi sono dato il cazzo perché non ho tempo veramente da perdere con i deficienti ok quindi state lontano da me se non avete la testa perché io purtroppo non è che posso metterla al posto vostro perché ne ho poca anch'io ok mi basta se non la mia io figli non ne ho fatti perché sono deficiente ok tanto quanto voi quindi tranquilli fidatevi di me è quello che ci vuole per tirare fuori un bonsai a fine anno bisogna essere un po' scemi per fare questo lavoro come professione ok lavorando veramente con la partita IVA pagando le tasse che se no siamo incapaci tutti a dire io sono bonsaiista ok fammi vedere il bilancio fammi vedere le fatture gli scontrini non c'è niente ah no ma io in Italia non si può io posso ok io posso quindi si può acero tridente pianta ideale per i neofiti quindi per quelli che cercano una pianta per quelli che mi chiedono molto spesso piante dove comprare dove non comprare ragazzi io consiglio che vi do è di non comprare assolutamente online perché perché se la pianta vi arriva a casa poi dopo muore dopo a chi scrivete cioè dopo quello che di là vi dice no io ho spedita la pianta stava bene voi dite di no loro dicono di sì poi voi dite di no poi loro dicono di nuovo di sì ed è finita lì ok e un po' quando si va poi per carità ci saranno anche i professionisti però le piante sono essere viventi io sono dell'idea che soprattutto in estate o in primavera non vanno spedite ok in inverno ci può anche stare la pianta di stasi un viaggetto se lo fa però considerate questa cosa se il corriere tarda un giorno o tarda due giorni in estate o in primavera la pianta muore la pianta muore e se c'è un problema col corriere che questo non trova la vostra casa ha una voglia di consegnarvela oggi ve la consegna il giorno dopo ve la manda in giacenza così succede pianta dopo cosa fa muore vive non si sa quindi fate attenzione perché poi sono cazzi i vostri perché il venditore quando vi ha presi i soldi ve li ha presi dopo fate voi una cosa fondamentale per la potatura visto che ci sono perché sennò poi sembra che voglio solo rompere il cazzo oggi per carità è la verità voglio solo rompere il cazzo io poto tutti quei butti che sono maturi che stanno bene e poi dopo continuo a concimare c'è qua la luce che mi rompe i coglioni aspettate un po' ecco e poi dopo continuo ancora a concimare cioè non è finita qui perché questa io non so quante potature avete fatto voi sulle piante io qui sarà quarta volta che metto mano cioè secondo voi è una cosa normale? no con i miei prodotti si invece ok? quindi per quelli che chiedono sempre ogni quanto bisogna potare ogni quanto ma dipende come cazzo coltivate queste piante di merda no? perché sennò tutte le volte è un chiacchiericcio amo no mi ha detto ho fatto io io annaffio sì io una volta ogni tre giorni adesso sto annaffiando una volta ogni tre giorni ma è possibile che ancora cioè che ancora state lì a contare i giorni ma che cazzo vuol dire? ma cosa significa? cioè voi quando avete sete è un esempio che faccio sempre questo eh voi quando avete sete oggi lunedì non bevo eh no perché ogni tre giorni bevo mercoledì domani no mercoledì quindi lunedì martedì mercoledì bevo ok? cioè funziona così la vostra vita a sti cazzi alla faccia allora è meglio fumare le sigarette a sto punto cioè almeno cioè dai comunque il discorso qual è? bisogna iniziare un pochettino a capirci qualcosa da qualche parte bisogna iniziare no? quindi ci sta all'inizio a comprare delle piante di merda per l'altro non capite un cazzo ovunque andate vi spennano e vi danno delle piante di merda non sapete anche voi che cazzo avete comprato arrivano qua là ma guarda arrivano delle foto su whatsapp di roba troncata dei ciocchi tagliati a metà così dei ciocchi quadrati tagliati di quadrati sono ma io dico ma amo c'ha il piede ma però c'ha il piede l'ho preso perché c'ha il piede sì ok il piede poi la gamba la mano cioè una persona non è fatta solo di piede ok? dovete capire che con la pianta stesso discorso quindi cos'è che serve? serve una cosa che si chiama albericità quindi se la pianta non sembra un albero ma che cazzo l'hai comprata a fare? ah ma no però se dopo la sistemo se me la vuoi sistemare tu io ragazzi non sistemo un cazzo io non mi sistemo proprio un cazzo ok? questa è la verità perché non posso fare tutto io tra l'altro se guardate sul sito ho tolto anche il pacchetto masterclass ok? perché? perché basta perché ormai è finita l'offerta ok? sono contento il gruppo è veramente valido questa è la verità gente in gamba ce n'è ok? però mi sono reso conto che a parte che siamo più di 100 e io sono uno no? però mi sono anche reso conto che che per quest'anno va bene così cioè perché poi chi si iscrive si becca solo 6 mesi e non è una bella cosa ok? quindi sono abbastanza poi arrivato anche con le energie perché comunque sia la mia azienda sta andando bene sto fatturando doppio l'anno scorso questa è la verità ogni anno ogni anno vado sempre meglio quindi un pochettino devo regolare anche le cose che propongo perché poi vedo che non riesco puoi portarle avanti al meglio ok? praticamente la fatica a un certo punto arriva vogliate ad esempio quando facevo anche l'infermiere a un certo punto mi sono reso conto che non era fattibile cioè non potevo fare bonsai e l'infermiere e lo so che uno può dire ma come? cioè ma lavori così tanto e sti cazzi ma io sono il dio del bonsai cioè non sono l'ultimo coglione arrivato che cerca di spacciarvi qualche prodottino dicendovi oh io non sono un maestro però so fare bonsai eh cazzo mettiti d'accordo con te stesso che cazzo sei allora cioè non ce l'ho con nessuno in particolare ma mettetevi un po' d'accordo lo so fare ma non lo so fare lo so fare però sentite con chi lo sa fare eh no allora no scusate non si capisce più chi cazzo cioè allora se uno è gay eh però non lo è io però sono sicuro di essere etero allora te sei gay punto ok questo è perché se no non so più chi sono io tra l'altro per i vari metrosessuali tutte le volte mi rompono il cazzo su whatsapp ragazzi io ho gente che è dal 2021 che mi scrive tre anni che mi scrivete voglio un consiglio voglio un consiglio prego sono un metrosessuale eh ma io non ho i soldi e allora scrivi a papa francesco che cazzo vuoi da me cioè io sto qua per lavorare mica sto qua io la parola lemosina non l'ho mai detta nei miei cazzo di video ah scrivetemi perché così io vi voglio bene non voglio io dico chiaro e tondo io lo faccio di lavoro di lavoro quindi se mi scrivete comunque sia è in previsione che poi comprate qualcosa da me se no andate a farvi fottere data a fanculo ok per quelli che mi scusate per quelli che mi chiedono 200 informazioni poi sono sempre lì sì no sto valutando sì sto valutando sì sto valutando i tuoi prodotti sto valutando e allora valuta non rompermi il cazzo valuta valuta da solo a casa tua non scrivermi ok sinceramente discutere per 10 euro io non ho voglia per quelli invece che mi scrivono sì ma io Claudio però ancora non ho la pianta vuole iniziare però non so adesso sto pensando cioè ma voi lo date o lo prendete cioè cosa siete che cazzo siete anche voi cioè io non capisco avete mille dubbi su tutto cioè quando è che si inizia a fare bonsai secondo voi quando è che si inizia no però adesso è un po' presto per me perché stavo valutando e la pianta ce l'hai la pianta o no perché c'è gente che vi dice ah no per fare bonsai prima bisogna studiare ti compri il libro ti fai il corso e poi la pianta più avanti ma di nuovo ma il bonsai si fa col bonsai non è che si fa col libro con i fogli cioè con le figurine panini che cazzo è dai su anche lì comprati una pianta inizia a concimarla vedi cosa succede è così che si impara ma che moda è quella di dire la pianta la compri alla fine ma alla fine che cazzo vuol dire alla fine siamo già finiti cioè raga io ho 40 anni io ho 40 anni mi alzo di mattina che mi girano i coglioni tutte le mattine perché sono stanco il fisico molla dopo un po' e ho solo 40 anni cioè pensate fra altri 10 anni che cazzo faccio io cosa faccio faccio le pugnette ok però adesso sono fortunato perché riesco ancora a lavorare in questo settore ok lavoro molto bene dico la verità ok il discorso qual è guarda che bomba su guardate ma il vostro messo ce l'ha una pianta così eh ce l'ha voi al club dove mangiate la crostata ce l'avete il bonsai così con un tronco così senza tagli sopra con tutti i rami che escono fuori ce l'avete le piante avete uno un bonsai ce l'avete che rompete tanto il cazzo eh il discorso qual è io sono bonsaista e quando mi scrivete dovete tener conto di questa cosa non sono il vostro il vostro amico del cuore o un possibile no da stalkerare tutti i giorni oh allora mi rispondi ti prego ti amo oh mi sono Claudio bonsai oh mica only fans qui non siamo mica su porn hub o cosa cioè vi fate le seghe sulle mie piante ci sta eh che cazzo che piede che c'ha mi faccio anche io i segoni sulle mie piante tra un po' ma ci sta cazzo che bomba però fate schifo dai cioè cos'è cioè ma dai che schifo detto questo io ragazzi non so più come dirvelo per iniziare bisogna prendere una pianta basta una un olmo o un acero come questo non questo costa un fottio una pianta così siete neofiti non comprate vi muore non capite un cazzo è un peccato ok e non ve la vendo neanche quindi non rompete i miei coglioni però una pianta ci vuole per iniziare poi bisogna prendere i prodotti il substrato 20-30 euro che cazzo sono cioè ma dov'è il dubbio che dubbio avete il dubbio esistenziale per ogni cosa allora cioè ok non mi va di perdere tempo con gente che mi rompe il cazzo tutto qui ok tra l'altro ho la chat che è stra mega piena quindi prima di scrivermi vedete di fare i bravi perché io sennò vi blocco all'istante perché sono stufo sinceramente ok perché piondi metrosessuali che chiedono un sacco di cose però 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 io sinceramente sono il numero uno se comprate bene se no andate da qualcun altro andate a massacrare i coglioni a qualcun altro ok perché io sono a posto così con la mia vita sto benissimo ultima cosa prima di chiudere come oggetto ho il videocorso questo mese ho defogliato il mio olmo che è una bomba così una bomba c'è solo da imparare ragazzi da quel video lì fate un ordine del cazzo sul sito vi guardate questo cazzo di video c'è solo da imparare ve lo posso garantire ok è una bomba della madonna e per il resto guardate che roba quando mi scrivete su whatsapp non chiedetemi sconti perché mi sono dico sempre di no attento lo vedete no ok mi sono rotto il cazzo sinceramente eccolo qua al cielo tridente l'ho riportato di nuovo l'ho ricompattato un attimo questa è la potatura che io definisco potatura di rientro ok primaverile estiva autunnale invernale pre-estiva semi-autunnale precoce chiamata la luna ragazzi quando la pianta vi fa dei cacci di 20 cm li tagliate ok perché tanto il nostro obiettivo è mantenere questa forma devi sempre vedere la forma della pianta ok c'è poco da fare prima di chiudere per quelli che hanno comprato prodotti da altri e mi scrivono a me ma io porca troia ma lo volete capire che io non so che consiglio darvi perché io non so cosa avete comprato non lo so io non lo sapete voi che avete pure comprato non lo sa neanche il venditore che ve l'ha data con la merda che avete comprato chiamate chi di dovere cioè chiamate l'azienda chi cazzo vi ha venduto la roba io cosa c'entro se comprate da me sì una mano ve la do se invece comprate da un altro che cazzo volete da me cioè questa è la differenza fra me e gli altri io ai miei clienti l'assistenza gli do sempre ok perché semplicemente hanno comprato da me hanno dei dubbi scrivimi volentieri hai speso dei soldi quindi ti rispondo ti dico come usare i prodotti tutto tutto io ho tutto so tutto e vi do tutto quello che vi serve per fare bonsai seriamente ok basta ci vediamo al prossimo video videocorso gratis claudiobonsai.com l'esaurimento fate i bravi ciao a tutti ragazzi a breve ci saranno anche altri prodotti nuovi a breve qualche mese qualche mese ci vorrà però sto lavorando soda allora c'ho uno due due sicuro arrivano il terzo nel 2025 secondo me però quello è cattivo quello quello è peggio non di un dito nel culo di un pugno nel culo quello fa male quello fa male e farà male a tantissimi competitor quello farà veramente male quello è veramente la detonazione finale ok ciao a tutti